buongiorno ci troviamo in Cermenate e oggi vi porto a vedere questa interessante villetta schiera seguitemi entriamo dal cancelletto pedonale e ci troviamo nel giardino di proprietà giardino piantumato dove è possibile in estate grigliare e comunque godersi anche il sole veniamo a dare un'occhiata siamo accolti da un ampio soggiorno con questo bel finestrone che dà sul giardino di proprietà dal soggiorno ci dirigiamo verso la cucina cucina che è abitabile spaziosa e ampia e che ha sfogo su questo comodo terrazzino sfruttabile nel periodo estivo rientriamo e andiamo a vedere quello che è il bagno bagno anch'esso con porta finestra e con doccia ora andiamo a vedere il piano superiore dove sono situate tra le camere seguitemi attraverso la scala giorno saliamo a vedere quelle che sono le camere eccoci arrivati al piano qui troviamo un'ampia e luminosa camera matrimoniale che ha sbocco su un terrazzo di servizio comodo dalla camera ci dirigiamo verso il bagno bagno che è finestrato e con vasca e attraverso il disimpegno ci dirigiamo nell'altra camera matrimoniale e nell'altra cameretta cameretta che comunque ampia e può accogliere due letti comodamente come potete vedere adesso scenderemo e andremo a vedere quella che è la taverna e il box taverna che è ampia con cammino dalla taverna poi si accede direttamente a quello che è il box box e zona lavanderia fa parte della proprietà anche l'area esterna retrostante alla zona box che ha accesso indipendente per maggiori informazioni non esitate a contattarmi al 3317736797 geometra marchese